musica 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 e basi ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi faremo un video su happy wheels e perciò iniziamo con questo livello iniziale che non so che livello sia ce l'ho fatto prima ed è ok cacchio ottimo raga devo silenziare il gioco perchè fa troppo rumore ok raga già siamo morti perciò bene benissimo cosa ridire riproviamo devo mettere il volume più piano perchè non si può fare così intanto uno l'abbiamo levato dai che pile e abbiamo scippato una gamba che bello ragazzi non so giocare a happy wheels ci ho giocato soltanto una volta cioè ora vabbè raga io direi che questo livello non lo facciamo cosa ne pensate non è una bell'idea secondo voi non è una bellissima idea c'è un exit attimo raga che vi sposto un pochino così ok e facciamo e facciamo 80% impossible play now ok raga non saprei come devo fare oddio ma che cacchio riproviamo no vabbè raga aspetta non so se l'avete visto aspetta un attimo c'era scritto qualcosa ah se è troppo difficile andate là no ma non ha senso cioè noi dovevo farlo bene per quanto non ho preso la cosa oddio mi sono un pochino distrutto un pochino poi raga scusate come cacchio ci devo arrivare lì ma tua mamma cioè fratello ma tua mamma ma quella là quella che si sente male ogni giorno vabbè raga cioè ma che cosa abbiamo vinto direi proprio raga che non è livello per noi questo possiamo cercare di qualche livello tipo non lo so cerchiamo il mio nome anche se non penso troverò mai qualcosa per post vediamo shark infatti chi mi conosce a me c'è 200 iscritti allora raga siccome il maggiore esponente di happy wheels su youtube italia è favij perciò noi cerchiamo favij ok favij impossibili ottimo allora raga facciamo favij salva la patria anzi no facciamo favij impossible il 98% manco 99 ma 98 allora raga io direi che non penso dobbiamo usare questo ma qui c'è una bella cosina che penso ci possa servire buttati no bagacchia doveva oddio non credo si usi così eh non credo poi cibo oddio i vabbè bella la vita usciamo facciamo su qua con il nonno favij e il nesquik il nesquik è che il mio cibo preferito tra viso cibo più o meno vabbè no no è vera che è impossibile toccare la vabbè exit eh facciamo 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 favij ha i poteri due va bene va qua va bene ok calmati vieni che c'è scritto sembra non è una mossa per scommigli ovvero il pugno più grosso tocca il muro oddio che significa di quanzio ok senza mani l'ultimo lo voglio rifare allora aspetta boba aggiusta tutta voglio di mettere molto difficile per questo spazio vabbè ciao favore guarda scritte boh vabbè ok c'è il muro se c'è scritto non è di qua ok vabbè abbiamo perso il figlio ok o impennando proprio così noi cattivi non sappiamo impennare neanche nel gioco perciò andiamo a fare tipo favij boh anzi no perché molto probabilmente sarà un video cioè sarà una cosa brutta ci possiamo fare possiamo fare favij poteri 2 già abbiamo fatto possiamo fare favij il torturatore bene ok che si deve fare raga raga che devo fare salve signor grazie per se andrò qui dovrò collaborare queste armi sottolineando su personalare a noi non il termine verrà appogato ok raga ce ne dobbiamo premere dei pulsanti eh raga non me li fa premere forse così si infatti col mouse ok no raga ok povero oh cacchio vabbè basta che non siamo noi quelle versanti ok bellissimo questo ok c'è lui il tipo che cammina oh my leg ha detto vabbè voi le raga non lo sentite il gioco perché non so perché non mi fa sentire a voi non me lo fa sentire questo secondo il programma è un pochino schifosino però non ci posso fare niente sto soltanto questo qua senza soldi oh raga non funziona il pulsante ah se non funziona non so perché perdonami vabbè fratello eh dai raga ah bene dai raga oh questo qua fa male oh poverino grazie per aver testato queste armi ecco il suo pagamento probabilmente più alto di quello di youtube grazie vabbè io ancora raga non guadagno niente su youtube però vorrei guadagnare qualcosa su youtube anche se non so come se non ho mille iscritti perciò raga iscrivetevi al mio canale e fate iscrivetevi pure i vostri amici così raggiungiamo i mille iscritti favij è impossibile allora favij è impossibile se leggi questo dovevo dire che ti stimo vabbè non è per me ma è per favij molto male ora non so cerchiamo horror horror raga scrivetemi nei commenti cosa devo cercare nel vabbè nei livelli di happy wheels e io li cercherò nel prossimo video giocherò con i livelli horror elevator demo cosa devo fare raga che cosa sono tutto schiacciato what the hell cosa è successo wait ok c'è scritto che devo aspettare che scenda un coso ok aspettiamo che devo fare aiuto cosa devo fare oh cristo carusi mi sono cagato addosso quando è spuntata ma vi spiego raga è spuntato quel coso un attimo aspettiamo allora raga vi spiego qua spunta sto coso e fa un rumore pazzesco mi dispiace che non ve lo posso fare sentire ma è tipo una cosa del genere e mi sono cagato addosso vabbè qui ci sono poi le mine che esplodono doppia mina che esplode gente che uccide altre gente un'altra persona che mi spawna così e io muoio e raga ho scordato di fare l'outron perché stavo editando il video e perciò ciao raga l'outron grazie a tutti